I finanzieri della compagnia di Lauria, nell'ambito dell'attività di controllo del territorio di competenza nei pressi dello svincolo autostradale Lago Negro Sud, hanno fermato un giovane di origine bulgara di anni 46 alla guida della propria autovettura Renault Laguna, nel cui bagagliaio occultava un numeroso quantitativo di sigarette in due borsoni di plastica. I pacchetti circa 1090 di varie marche, privi di contrassegni di Stato ed illecitamente introdotti del territorio dello Stato italiano. Le sigarette erano quasi sicuramente destinate al consumo nei paesi dell'est Europa, in considerazione alla presenza di diciture in carattere cirillico apposte sui confezionamenti. Il quantitativo di sigarette, pari a 21 kg 800 grammi, è stato sequestrato ed irresponsabile denunciato per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Soltanto pochi giorni fa i militari di Lauria avevano effettuato un sequestro analogo.